Ci sono Jeep e Jeep, ma la Jeep per eccellenza rimane la Wrangler che ha fatto la storia, l'essenza della potenza e della libertà. Oggi vi presentiamo questo modello con allestimento Sahara del dicembre del 2020, unico proprietario con solo 25.000 km, 2002 turbodiesel da 200 cavalli. Scopriamola meglio e vediamo perché acquistata, ma prima vi ricordo che se vi iscrivete e attivate la campanellina sarete sempre tra i primi ad accedere a tutte le nostre offerte. Iniziamo! È davvero mastodontica. I gruppi ottici sono a LED con fendinebbia e il proprietario, intanto potete subito notare, ha fattosi di renderla total black perché ha fatto riverniciare di nero metallizzato i paraurti anteriore e posteriore. Cerchi lega da 18 pollici e pneumatici, ovviamente, hanno solo percorso 25.000 km. E guardate che meraviglia! Siamo abituati a vederla forse tre porte, essendo cinque porte vedete che ha ovviamente una linea ancora più lunga, quindi capacità di carico vertiginosa. Passando nel retro abbiamo la ruota di scorta e a vista ovviamente tipico delle Jeep con sensori di parcheggio posteriori e la retrocamera. Piccola cosa che vogliamo farvi notare per correttezza, l'auto è rigorosamente originale, non è mai entrata in carrozzeria, ma in fase di acquisto verrà completamente ripristinata. Vogliamo farvi vedere l'unico danno che un paletto è stato preso e quindi verrà ripristinata. Ma ovviamente chilometri e carrozzeria, tutto quanto originale, total black grazie anche ai vetri oscurati. Un accessorio che ha fatto montare il proprietario è la capote che si può aprire elettricamente. Dopo ve la farò vedere e ovviamente smontando anche la parte posteriore diventa una vera e propria Jeep dal carattere libero. E vedete anche i vari montanti che si trovano qui. La selleria è in tessuto tecnico con attacchi Isofix nel posteriore e andando a vedere anche l'usura, che è pari a zero ovviamente per come è stata trattata, vedete non ce n'è, soprattutto nelle parti di pelle, nelle cuciture, il bracciolo, il freno a mano, le varie leve per il cambio, per la gestione del 4x4 e il cambio automatico a 8 rapporti. Una cosa che voglio farvi anche notare entrando dentro è che già quest'auto è predisposta per la porta USB e anche la porta C, ingresso AUX. Insomma è vero che è un fuoristrada ma comunque tecnologica allo stato puro. Diamo un'occhiata anche alle varie cuciture della corona dello sterzo e come vedete anche qui in perfette condizioni. Qui abbiamo i vari accessori per la gestione della velocità, luci automatiche e qui per regolare appunto i finestrini. Adesso vediamo un attimo se funziona anche il... la mettiamo in moto grazie alla chiave elettronica. Ed eccola qui, cappotto che funziona alla perfezione. E di certo d'estate quando la porterete non si può fare a meno di questo accessorio. Se la scappottate non passerete assolutamente inosservati. Adesso la porteremo su strada, sono curioso un po' di guidarla, di vedere un po' come si comporta su strada. Vi preannuncio che è perfetta a livello meccanico perché ha superato innanzitutto i nostri 150 punti di controllo e quindi se no non l'avreste trovata in vendita sul nostro portale. Non ci rimane adesso che partire, andiamo. Dimenticavo cosa molto importante. Non tutte le Wrangler hanno questo. Il proprietario con 500 euro ha fatto installare, diciamo, la sicurezza, la chiave perché così nessuno può aprire il cofano perché senza di quello chiunque potrebbe aprire qui le citture e poterla aprire. Quindi c'è anche questo. Adesso partiamo davvero. Allora vi dico che salirci è bestiale. Strumentazione molto grossa, spartana, ma nello stesso tempo comunque rimane moderna ed elegante ed è tutto comunque a portata di mano. Ma mi piace tantissimo la leva del cambio automatico a otto rapporti. Bella, massiccia, ma ovviamente deve rispecchiare il carattere possente della vettura. Facciamo retromarcia e grazie alla retrocamera con i vari sensori di parcheggio nonostante sia enorme riusciamo a uscire da questa situazione abbastanza complicata. L'angolo di sterzata, ecco, questa è una cosa che mi piace molto. Prima ha portato un T-Cross e non ha l'angolo di sterzata di questa che nonostante è così lunga di solito non è proprio un punto di forza ma ovviamente essendo un fuoristrada hanno curato anche questo aspetto. Dicevamo unico proprietario tenuto in maniera maniacale e non ha mai fatto fuoristrada. è sempre stata guidata qui nella zona, l'abbiamo venduta noi, nuova a questo nostro cliente storico e adesso vuole passare a un'altra tipologia di vettura e quindi ci ha incaricato della vendita ma siamo già certi di cosa stiamo vendendo. L'auto, abbiamo detto, ha percorso 25.000 km e adesso la testeremo per curiosità anche sul nostro rettilineo ma wow, fare lo slalom è fantastico perché si avverte tutta la sospensione il fatto che è alta, comunque è normale, non è che ha un assetto sportivo. Siamo pronti sul nostro rettilineo adesso schiacceremo a tavoletta e vediamo come va. Wow, non me l'aspettavo ma siamo a 90.000 km Che grande frenata, cioè frenare e fermare soprattutto una bestia del genere ci vuole un ottimo impianto frenante. Allora, come avete visto, l'accelerazione non me l'aspettavo ma a un certo punto ha dato la sua spinta e siamo arrivati a 90 km orari che di solito in poche macchine arrivano sul nostro rettilineo. La frenata ho schiacciato un po' più a fondo nel momento in cui si stavano bloccando le ruote e ovviamente è entrato in funzione l'ABS e l'auto è rimasta perfettamente in linea. Parlando invece degli accessori, abbiamo detto che è una Sahara e quindi è full optional. Non vi sto a elencare tutti i vari optional perché se no ci vorrebbe un video di circa 15 minuti ma se andate sul nostro sito privacar.com della sede di San Cesario avrete la lista completa di tutti gli accessori più i vari optional che già vi ho elencato anche prima. Quindi in descrizione vi lascio i numeri di telefono, i contatti, anche il link della posizione della nostra pagina Google per vedere chi siamo, dove ci troviamo e soprattutto il link per foto e prezzo. Contattateci per prenotare un test drive, vi ricordo che l'auto è in pronta consegna ed è anche finanziabile. Vi aspettiamo!